Scende in politica con una lista civica dal nome Agropoli Moderna il futuro candidato a sindaco per la città di Agropoli Amin Naugmuki, di origini tunisine, 21 anni e studente di giurisprudenza. Una delle motivazioni che ha spinto il giovane Amin a scendere in campo come sindaco è la volontà di cambiare Agropoli e renderla più moderna. Sono sceso in battaglia politica come candidato sindaco, quindi non direttamente come consigliere comunale perché in effetti molti si pongono tuttora questa domanda, come mai ho fatto questo grande salto e non i primi passi? Semplicemente perché amo follemente Agropoli e mi sono scocciato di vedere da parte delle amministrazioni comunali sempre le solite cose, tante chiacchiere e pochi fatti. Sei sono i punti del suo programma elettorale presentati questa mattina alla stampa. Partiamo con modernità, il cavallo di battaglia della mia lista civica. Modernità. Modernità che cosa significa? Portare progressismo ad Agropoli. Come? Ad esempio portando pezzi di multinazionali. Ho citato banalmente il McDonald's, ma il McDonald's è uno dei tanti risultati che vorrei portare nella comunità agropolese. Punto 2. Sicurezza. Migliorando l'impianto di videosorveglianza se non installandolo del tutto dal momento che continuamente ad Agropoli accadono atti vandalici e comunque rapine eccetera eccetera e non si pongono mai dei rimedi. Punto 3. Pulizia. La pulizia va di pari passo con la sicurezza, sempre con l'impianto di videosorveglianza in modo che possiamo regalare alla comunità agropolese una città più sicura e una città più pulita di conseguenza. Punto 4. Sanità. So benissimo che l'ospedale di Agropoli non è di competenza comunale ma è di competenza regionale, ma non dimentichiamoci che il diritto alla sanità è un diritto costituzionale, quindi a parer mio il sindaco non può fare ben poco ma può fare ben tanto. Come? Non scendendo a compromessi con l'amministrazione regionale. Punto 5. Lavoro. Lavoro. Vogliamo portare lavoro quindi con il progressismo che porteremo ad Agropoli. L'ultimo punto è la cultura. Vogliamo portare ad Agropoli una sede bibliotecaria. Ad Agropoli non abbiamo una sede bibliotecaria ed è vergognoso che i giovani va bene. Innanzitutto i giovani non hanno nemmeno qualcosa come intrattenimento, non possono intrattenersi il sabato sera, quindi devono necessariamente andare a farsi il classico giro per la piazza, il porto, la piazzetta e non trovare mai qualcosa di concreto per fare. E noi vogliamo portarlo con la modernità. Punto citato pochissimo fa. Sempre il lavoro eccetera eccetera. Cultura. Cultura portare ai giovani volenterosi di infilarsi insomma nelle biblioteche e poter leggere libri su libri. Mi aspetto dai cittadini di Agropoli rispetto per la mia scelta, sottolinea Amin ai nostri microfoni, riferendosi anche alle polemiche scaturite sui social dopo la sua annunciazione alla candidatura a sindaco per la città di Agropoli. Purtroppo il prezzo da pagare ogni volta che qualcuno o qualcuna scende in politica sono proprio gli insulti, che tu sia giallo, nero, bianco eccetera eccetera, perché se ti metti sulla sinistra inevitabilmente riceverai gli insulti da parte della destra e viceversa. Quindi l'ho accetto e non posso far altro che mandargli un calorosissimo braccio e bacione. Cosa mi aspetto dalla comunità agropolese? Innanzitutto spero, rispetto, perché comunque io non ho fatto nulla di male a nessuno dal momento che sono sceso in battaglia politica, innanzitutto per il bene di me stesso, per il bene della mia famiglia, per il bene del prossimo, ovvero del cittadino medio agropolese. Quindi non capisco perché io debba essere insultato così in maniera ignorante, senza alcun senso, senza alcun fondamento.